A ciecare e assassinare San Leo de Gario, vissuto tra il 616 e il 678, nipote del vescovo di Poitiers, vescovo e santo benedettino. Alla morte di Clodoveo II assistette la regina Santa Batilde, reggente durante la minore età del figlio Clotario III. Come vescovo di Oton nel 659, Leo de Gario riformò la disciplina ecclesiastica ed impose a tutti i monasteri l'osservanza della regola di San Benedetto. Le sue relazioni con la corte scatenarono contro di lui la furia del tiranno ebruino. Il maestro di Palazzo che lo fece degradare, imprigionare, accecare ed assassinare. Perché questi martiri nei recessi della storia? Commento. Perché a quei tempi la forma coscienza prima e la forma pensiero poi della loro religione energizzavano la monoidea religiosa che occupava tutta la vita di quei martiri.